Giacomo, stasera la Croazia una semifinale importantissima anche dal punto di vista ambientale. Loro avranno questo piccolo vantaggio di avere il pubblico tutto a favore. Dal punto di vista tattico invece ti chiedo, come si batte la Croazia? Ma guarda, l'abbiamo affrontata varie volte durante tutto l'anno. Li conosciamo bene, Sandro ha preparato la partita perfettamente, quindi noi sappiamo quello che dobbiamo fare. È logico che ci aspettiamo un ambiente molto caldo stasera, ma queste situazioni a noi ci stimolano. Abbiamo visto Budapest contro l'Ungheria nei quarti di finale e tutti quegli spettatori, tutto quel tifo contro ci carica. Grazie.